Buonasera a tutti, buonasera a Goffredo Bettini, buonasera a Francesco Boccia, io sono Paola Zanca e questo è uno dei dialoghi a sinistra, uno del ciclo di incontri che il sito del fatto quotidiano sta ospitando a partire dal libro che Goffredo Bettini ha pubblicato con Paper First a sinistra da capo ed è un libro che dà innumerevoli spunti non solo di riflessione sulla storia della sinistra ma soprattutto sull'attualità e da capo e dalla ripartenza è quello che sta cercando di fare il PD con questa fase congressuale che si è aperta e che si concluderà con le primarie del 26 febbraio. Io parto subito appunto dall'attualità e avendo l'occasione di avere Francesco Boccia ospite con noi e Francesco Boccia che è reduce da dimissioni da commissario regionale della Campania per una gravi anomalie che ha registrato nel tesseramento e che ieri gli hanno fatto dire di essere indignato da quello che sta succedendo. Ora Boccia le chiedo di riassumerci brevemente quello che è successo e quello che ha visto e soprattutto vorrei capire da voi se è possibile che non si riesca ad avere una sfida civile. Il mio lavoro in Campania è stato breve, nel senso che sono stato nominato commissario qualche mese fa, poco prima delle elezioni politiche, per il caos che già c'era nel partito campano ed era figlio di una condizione non semplice. Io penso che l'origine di quella condizione sia legata al fatto che in alcune parti del mezzogiorno il partito non venga vissuto così come la comunità DEM ancora in questo congresso sta dimostrando di volere come un luogo di confronto permanente, un luogo nel quale per andare subito al libro di Goffredo si rovescia ma in senso positivo l'ordine sociale. Quando il partito è fatto da eletti e non più da militanti e dalla base, il partito finisce per essere una sorta di tram, di autobus per entrare nelle istituzioni e poi si assoggetta a quelle istituzioni, ma questo non è il Partito Democratico, questo non è nemmeno la funzione di un partito. Il partito in Campania purtroppo quando sono stato nominato commissario l'ho trovato ripiegato su se stesso, con tanti debiti anche che abbiamo ripianato in questi pochi mesi, ho dovuto ristabilire delle regole di convivenza come quelle che chi entra nelle istituzioni grazie al partito contribuisce alla vita del partito che guardi è normale in tutta Italia, non era normale purtroppo in Campania e la sudditanza psicologica degli esponenti del partito rispetto alle istituzioni che guidiamo poi aveva fatto il resto. Le mie dimissioni erano inevitabili non solo per quello che è successo ma anche perché avevo completato il mio lavoro proponendo alla guida della Commissione Congresso perché siamo in una fase congressuale, quindi le funzioni dei segretari regionali e dei commissari nel mio caso cessano. Io ho proposto a Franco Roberti, ex procuratore antimafia oggi europarlamentare del Partito Democratico, di guidare la Commissione regionale del Congresso quindi da alcune settimane è Franco il punto di riferimento per il Partito Democratico in Campania per la fase congressuale. Speravo bastasse perché avevo solo una funzione amministrativa dopo aver visto quello che è successo a Caserta e per la verità anche nelle altre province campane essendo anche il coordinatore della mozione politica chiediamolo giusto in due frasi, cioè un numero di iscritti iscritti a Caserta, nella provincia di Caserta, sono superiori all'intera città di Roma all'intera città metropolitana di Milano, all'intera città metropolitana di Torino è una cosa oggettivamente inaccettabile anche perché Caserta ha avuto negli ultimi cinque anni ben tre commissari l'anagrafe degli iscritti negli ultimi tre anni non era mai stata certificata avevamo dovuto inviare Matteo Mauri, che è stato anche viceministro all'interno per fare il commissario negli ultimi mesi e Mauri si è dimesso qualche settimana fa insomma la situazione è oggettivamente una situazione di degrado della politica e ovviamente lì c'è tanta gente che vuole reagire, c'è tanta gente che ci crede e però noi dobbiamo aiutarla con il comportamento molto rigido facendo sì che la richiesta di trasparenza non sia la richiesta di una sola mozione ma sia la richiesta di tutto il partito unito e lì c'è anche un conflitto evidente tra il presidente del consiglio regionale attuale, Viero, che è protagonista da parte di queste azioni e la stessa vicepresidente del Parlamento europeo, Fina Picerno, che è anche in ticket con Stefano Bonaccini c'è una vicenda tutta dentro la mozione Bonaccini che mi auguro che si risolva con la richiesta fatta di tutti di sospensione delle attività congressuali in una provincia che è oggettivamente una provincia che ha dei sintomi che sono molto gravi e che noi vogliamo combattere, il PD è un'altra cosa, lo dico, mentre dico questo stiamo vivendo una bellissima fase di partecipazione in tutti i circoli italiani che è già partita, stanno votando decine di migliaia di persone, c'è una bella partecipazione e io penso che il PD dimostrerà ancora una volta il 26 febbraio di essere partito di riferimento di una sinistra diversa, larga, unita, io spero, in linea con quello che Goffredo ha scritto nel suo libro. Bettini, lei diciamo che, al di là del caso Campano, la sua impressione su come sta l'andamento del congresso lei non si è ancora, mentre ricordiamo che Francesco Boccia è il coordinatore della mozione Schlein Bettini non si è ancora esposto in maniera, e non mi pare che abbia voglia di farlo neanche oggi da come scuote la testa, ma scherzo però diciamo la sua impressione anche rispetto all'andamento del congresso anche rispetto a questi primi numeri che stanno cominciando ad arrivare che vedono un risultato di Ellie Schein probabilmente al di sopra delle aspettative per quanto riguarda il voto nei circoli non c'è dubbio, lei dice una cosa vera che politicamente in queste ore ha un suo certo rilievo naturalmente siamo all'inizio del processo di votazioni quindi ancora è tutto molto aperto però voglio dire due cose la prima sulla vicenda della Campania che è una regione che io conosco bene perché ho cercato di dare soprattutto una mano alla candidatura del professor Manfredi che attualmente è il sindaco di Napoli una persona a me molto cara e di grandissimo valore lì c'è stata una deriva adesso la dico in una parola che può forse essere anche equivocata ma la metto fra virgolette governista cioè io nel libro tratto molto questo argomento cioè quando si privilegia soltanto la dimensione del governo governo solo governo poi alla fine innanzitutto si perde il contatto diciamo con quella libertà di movimento della società e anche con le sue speranze ma anche con le sue difficoltà i suoi dolori intanto c'è un elemento di come avrebbe detto ha detto autocraticamente una volta D'Alema di riformismo dall'alto se poi è riformismo ma insomma di riformismo dall'alto e poi alla fine il partito effettivamente nei territori smarrisce la sua funzione e vengono giù per i rami diciamo delle catene di comando che costruiscono il partito sulla base però della funzione di governo questo è un mi pare il difetto che in Campania è particolarmente forte però è un difetto che in generale si può determinare un po' in tutta Italia questa è la prima la seconda quando lei osserva tanto io mantengo per un fatto un po' di principio il mio riservo sui nomi perché francamente ma serve a questi candidati e uno l'altro visto persino persone tutto sommato non certamente definibili vecchie diciamo come Orlando e Zingaretti insomma poi vecchi non pare che siano così vecchi sono però stati visti dalla stampa anche nel dibattito un po' interno a un appesantimento della candidatura quindi intanto di Elin Schlein intanto servono questi francobolli io penso di no serve di più semmai cercare di mettere in campo delle idee io sono molto colpito mi faccio dire una cosa un po' autocelebrativa molto colpito però dal successo del libro poi voi lo sa il fatto lo sa mi ha seguito la casa editrice mi ha seguito con molta cura con molto impegno quindi c'è un successo di vendite siamo ancora nell'alta classifica dopo due mesi e poi questi nostri incontri sono andati bene in giro per l'Italia con tanta gente e con tanto interesse io questo ho fatto per il congresso ho fatto la mia costituente ho cercato di portare alla costituente delle idee oggi la cosa che mi colpisce è effettivamente una tenuta molto forte della della candidatura di Elin Schlein che naturalmente insieme a quella di Cuperlo per certi aspetti è quella più vicina ai temi che tratto nel libro questo è evidente insomma non è che ci vuole uno scienziato basta vedere un po' l'impostazione delle emozioni però lei sta tenendo molto nei circoli e questo dimostra che c'è una parte non solo di giovani perché mi hanno detto che a Roma per esempio in questa assemblea romana mi hanno detto c'erano tanti quindicenni sedicenni diciassettenni molto molto diciamo come dire non solo interessati ma con voglia di partecipare di fare però c'è anche una parte di partito che percepisce che la riproposizione tutto sommato di vecchi stilemi e di qualcosa che comunque partorisce un po' dall'ultima fase della nostra storia lo dico con grandissimo rispetto dando un giudizio su tutti i candidati assolutamente non solo di rispetto ma anche di considerazione e però qui c'è una parte essendo in riferimento al passato diciamo di vicinanza a Matteo Renzi di Stefano Boraccini o Capitano in generale penso che non è soltanto la questione di Renzi penso che qualsiasi altro candidato uno di noi anche che magari oggi appoggia la Schlein avrebbe rappresentato comunque in forma diversa qualcosa che viene dentro che è qualcosa di continuativo rispetto a quello che è stato il partito democratico anche se naturalmente non sono tutti uguali poi il battaglio ognuno l'ha fatto ognuno si è differenziato non dico questo però dico che una parte del partito vuole proprio cambiare il binario ecco non avere più un binario magari lo stesso binario con magari una nuova locomotiva ma vuole cambiare il proprio binario tentare qualche cosa di nuovo ecco questo è l'impressione che senti in queste ore poi magari certo in realtà mi tocca fare diciamo l'avvocato del diavolo perché è Bonaccini fa l'accusa esattamente opposta proprio oggi ieri abbiamo raccontato oggi sul nostro giornale di un incontro che Bonaccini ha avuto in un circolo alla Magliana che è un quartiere della periferia romana dove lui ha detto con la Schlein stanno tutti quelli che hanno guidato il partito finora facendo riferimento diciamo appunto nello specifico a Zingaretti a Letta quindi agli ultimi segretari ora l'obiezione è un'altra o non mi pare che Letta si sia però l'espresso evidentemente Bonaccini sa cose che noi non sappiamo però diciamo è esattamente l'accusa diciamo l'accusa che lui rivolge a Schlein però insomma fa parte del dibattito congressuale credo a meno che voi non vogliate questa mi pare io non l'ho letta francamente ma se ci fosse un'affermazione di questo genere la considererei bizzarra perché diciamo è evidente che l'insieme dei gruppi dirigenti della classe dirigente che attualmente insomma ha un'influenza un potere nel partito non sta diciamo con la Schlein ma sta con Bonaccini quindi se ha imposto una questione di questo genere mi pare che sia persino controproducente ecco affermare una cosa di questo genere la cosa è diversa invece e questo secondo me è un po' smarrito nella discussione congressuale la cosa è diversa cioè il cosiddetto passato e la cosiddetta classe dirigente non è che si può ammucchiare tutta in una storia unica e nel partito democratico ci sono state anche negli anni recenti fasi diverse c'è stata la fase renziana che ha i suoi connotati anche qui lo dico con l'assoluta considerazione perché poi noi abbiamo avuto anche momenti alti nella fase in cui ha governato il partito Renzi poi abbiamo avuto però una proprio una rottura anche politica rispetto a una come dire ispirazione sociale di sinistra progressiva emancipativa quando lui ha preso in mano le redini del paese poi dopo quel disastro abbiamo avuto due anni di risalita perché io do un giudizio positivo dell'esperienza di Zingaretti e Zingaretti è stato molto innovativo politicamente meno sul partito ma politicamente sulla 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 storia precedente che era quella di Renzi Piazza Grande è stata un'esperienza dove si è impostata una linea coraggiosa di discontinuità ecco mi pare che diciamo dire che appunto possono tutti la stessa cosa non si mette in evidenza che c'è stata una lotta politica democratica c'è stato un conflitto dentro il partito che ha portato persino il segretario a dimettersi poi uno può giudicare ha fatto bene ha fatto male non è a me dispiaciuto però c'è stata anche c'è stato anche un trauma e poi c'è stata la fase diretta quindi come si fa a dire sono quelli che hanno governato non è vero non è vero c'è stata una dialettica c'è stato uno scontro politico un conflitto e se debbo dire io guardando al passato chi aveva ragione diciamo gli anni della ragione sono stati quelli di Zingheretti non sono stati quelli né di Renzi né quelli dopo quindi dove noi abbiamo stretto alleanze governato il paese vinto le regionali vinto le comunali e abbiamo raggiunto nei sondaggi il 22 il 23% e non è che si può mettere tutto nella stessa minestra anzi le incertezze rispetto a questa linea e oggi ci fanno dire che siamo in una situazione difficilissima io non dico che dobbiamo riprendere integralmente quei due anni che sono stati poi interrotti dalle dimissioni del segretario ma dico che quei due anni erano anni giusti anni in cui noi abbiamo tracciato una linea una prospettiva politica abbiamo ottenuto risultati e siamo stati combattuti perché anche oggi dire sicco di 5 stelle ma non subalterni subalterni io le faccio e chiudo solo una osservazione fattuale a me piace dire così perché lo dice Feltri fattuale io faccio un'osservazione fattuale quando noi avevamo un'alleanza con i 5 stelle governavamo il paese abbiamo avuto una importanza decisiva in tantissime decisioni assunte avevamo nei sondaggi buoni sondaggi stavamo sopra i 5 stelle i 5 stelle i poveracci soffrivano mentre appena abbiamo diciamo interrotto lei nel libro mi scusi cita una frase di Gualtieri che se non sbaglio riferisce a lei diceva Gospredo qualsiasi cosa chiediamo lo riusciamo a ottenere forse questo ce lo può dire boccia che era in quel governo adesso perché si dice con i 5 stelle ma non subalterno una frase che francamente non conosco una grande scienza una grande scienza non c'è anche un modo di dire avevate ragione voi ma io non ve la do questa ragione perché lo facevate in modo subalterno ma quale subalterno in quella fase andavamo bene poi siamo crollati quindi bisogna essere molto attenti nella ricostruzione e anche nella generalizzazione delle responsabilità io voglio aggiungere una cosa su questo perché ci tengo particolarmente io trovo anche intellettualmente disonesto fare di tutto verbo un fascio io penso che il governo giallorosso sia stato il governo più di sinistra e più meridionalista degli ultimi vent'anni io penso che il PD partendo da Piazza Grande con la guida di Zingaretti e arrivando all'accordo di fatto spinto proprio dal Partito Democratico in Europa ha aperto una fase politica nuova in Italia che ha preoccupato tanti la fase politica nuova è stata quella che ha portato prima al voto degli eletti del Movimento 5 Stelle in Europa alla Commissione von der Leyen in quel momento storico il Movimento 5 Stelle cambia pelle e passa da essere interlocutore dei gile gialli un anno prima di Battista e Di Maio prima della nascita del governo gialloverde erano a Parigi e partecipavano a quelle iniziative un anno dopo anche grazie all'azione politica voluta dal Partito Democratico in Europa noi consentiamo ed è questa la grande funzione della politica consentiamo ad una forza che di fatto era cresciuta fuori dal sistema di entrarci dentro e di guidare un processo politico che per noi era di centro-sinistra tant'è che oggi stabilmente dopo anni Conte si colloca dentro l'area progressista ma in quel momento storico quell'operazione lì ci ha consentito di chiudere accordi in Europa lo dico perché David Sassoli che non finiremo mai di ricordare perché è un pezzo della nostra storia nel nostro cuore diventa presidente del Parlamento Europeo qualche mese dopo Paolo Gentiloni diventa commissario degli affari economici e lo è ancora oggi io vorrei che non fosse dimenticato del nostro partito che Paolo è lì grazie a quell'accordo politico e il governo giallorosso oltre a gestire brillantemente la pandemia fa alcune cose che restano ancora nei cromosomi basta andarci in giro per il paese che iniziano a riconnettere sentimentalmente intanto il PD con il popolo del PD perché c'era stata una rottura a causa secondo me del disastro diciamo culturale renziano della seconda fase e costruisce un campo quel campo viene fatto saltare proprio da Renzi quando si rende conto che quella roba lì sarebbe stata la prospettiva politica peccato che quella azione politica è servita poi a far arrivare Giorgia Meloni a Palazzo Chigi dico solo una cosa noi dal 19 al giugno 22 le abbiamo vinte tutte le elezioni il PD era stabilmente al 23% e anche nel passaggio Zingaretti letta lo dico perché ho guidato per due anni gli enti locali e ho fatto gli accordi per le amministrative con il Movimento 5 Stelle e con chi ci stava noi abbiamo vinto le elezioni amministrative in tutte le grandi città che avevamo perso nel 2016 5 anni prima lo dico perché ogni tanto qualcuno in questo congresso dice che vinciamo dove ci sono gli amministratori no abbiamo vinto perché abbiamo fatto gli accordi noi con il campo largo nel 22 giugno 24 giugno lo ricordo come fosse ieri perché il 20 luglio poi è cambiato il mondo perché sono stati impossessati dal draghismo gran parte dei nostri dirigenti politici il 24 giugno noi abbiamo vinto le elezioni amministrative a Catanzaro città storicamente di destra a Verona abbiamo ristrappato Monza Piacenza Alessandria la lista è lunga abbiamo anche lì rimesso ordine a elezioni amministrative perse nel 17 sempre ai tempi della guida del PD diciamo fatta dal gruppo dirigente Renziano che oggi è quasi tutto con Bonaccini ora però io non giudico Stefano Bonaccini per la compagnia di giro e né per il misto fritto che si è tentato di fare in questi giorni in vista dei congressi che vada già a Russo a Onorato a Roma per citare diciamo due estremi due estremi ammesso che avviano magari poi si ritrovano chi due ci sono due due casi diciamo eccezionali due tipi umani che secondo me diciamo non rappresentano in questo momento la prospettiva della sinistra moderna che stiamo raccontando che invece rappresenta l'islande ma io non giudico Stefano che è una compagna di partito al quale mi sento legato così come mi sento legato a Gianni e a Paola per la compagnia di giro ecco perché trovo scorretto imputare ad una candidata diciamo legami con alcuni leader o ex segretari che secondo me hanno fatto solo il bene del partito democratico come se fosse una candidata che ha già guidato il PD e lì non c'era quando noi c'eravamo e ci siamo battuti io posso parlare dell'errore Jobs Act perché non l'ho votato perché mi sono alzato nel mio partito e quella delega non l'ho votata perché era chiaro che ci stavamo schiantando nel rapporto con il nostro popolo e con il nostro mondo però non ero ascoltato ero minoranza della minoranza mi alzavo in direzione votavamo in 7-8 alcuni sono andati via secondo me sbagliando altri sono rimasti continuando a fare opposizione lo dico perché è inutile parliamo del passato parliamo del futuro confrontiamoci sul futuro e il futuro di Eli Schlein è un futuro che intercetta alcuni punti fermi sulla lotta delle diseguaglianze sul lavoro sulla centralità del clima che rovesciano appunto quell'ordine a cui fa riferimento Goffredo nel suo libro e che secondo me dovrebbe essere il dibattito di questa fase e dico solo una cosa davvero breve nei circoli il dibattito c'è già è partito hanno votato diciamo oltre 23-24 mila persone quindi c'è già un campione significativo non so quanta gente voterà se supereremo meno i 100 mila questo lo vedremo nel prossimo fine settimana ma diciamo questi sono gli elettori del PD si può dire già una cosa oggi che alle primarie ci andranno Bonaccini e Schlein probabilmente c'era chi aveva fatto analisi diverse cioè molti pensavano che Bonaccini diciamo andasse molto meglio e Schlein molto peggio Schlein è andata molto bene Bonaccini è intorno al 48-50% ma in realtà questa fase serviva a scegliere i due candidati che andavano alle primarie da oggi da domani da domenica da lunedì dobbiamo discutere del futuro del paese della funzione del PD per le primarie ed è evidente che siamo già al confronto tra due idee diverse di partito quella di Elly che è l'idea di un partito nuovo completamente diverso di sinistra chiaramente identitario è quella di Bonaccini che ovviamente io non la giudico ma non mi permetto di dare giudizi su una linea diversa da quella alla quale io sto dando la mia energia la mia passione politica il mio servizio nel partito perché penso che sia una cosa diciamo nella migliore delle ipotesi restiamo lì dove eravamo sto parlando della linea politica non sto parlando poi Stefano è una persona capace persona seria persona onesta va anche molto generosa però il tema qui è la linea politica qual è la linea politica quella di Ellishline è molto chiara torno un attimo sulla vicenda del rapporto col Movimento 5 Stelle perché nel libro Bettini rimprovera più volte diciamo i modi bruschi con cui si è chiusa poi questa alleanza nel momento della caduta del governo Draghi con diciamo la pietra tombale sull'ipotetica alleanza alle elezioni che poi appunto ci sarebbero state a settembre del 2022 che come sappiamo si sono concluse con la vittoria del centrodestra ora il tema è che appunto nelle regionali in particolare nel Lazio dove 5 Stelle e PD governavano insieme e dove invece l'alleanza non è stata siglata ieri ancora Conte diciamo ha rispinto abbastanza in maniera netta l'ipotesi diciamo tecnicismi di voto ipotetico voto disgiunto che possa comunque favorire D'Amato che è candidato del PD e del Terzo Polo per evitare diciamo la vittoria del centrodestra però è stato anche molto netto dicendo noi non solo non accettiamo il voto disgiunto ma diciamo anche che anche se D'Amato dovesse vincere o avere bisogno diciamo del nostro supporto finale noi non ci sederemo al tavolo del PD perché qui nel Lazio l'esperienza è chiusa per sempre per le note ragioni a cominciare dal tema dei rifiuti e dell'inceneritore secondo lei Bettini stavolta è stato Conte a essere troppo brusco nel chiudere qualsiasi dialogo nel Lazio io quando Conte diciamo in qualche misura ha contribuito non solo lui ha contribuito alla conclusione delle esperienze di Draghi io avevo vissuto anche in un rapporto molto stretto con all'allora capo del movimento già capo del movimento 5 stelle un po' la sofferenza che lui aveva accumulato e quindi io gli dissi guarda secondo me hai fatto un errore perché francamente far cadere il governo per pochi mesi perché poi noi saremmo andati alla scadenza naturale della legislatura quindi già da settembre ottobre saremmo stati in campagna elettorale ma andare a pallino una prospettiva politica per qualche mese mi sembra sbagliato però lì capivo le ragioni e soprattutto dopo la replica di Draghi in Parlamento che mi sembrò abbastanza chiusa un po' anche non dico sprezzante ma insomma di poca considerazione nei confronti delle richieste che erano state avanzate dal movimento 5 stelle insomma io lì capì il motivo e mi sembrò sbagliatissimo immediatamente dopo dire mai più 5 stelle per le elezioni politiche insomma era è stato un suicidio non assistito diciamo è stato un suicidio così uno si butta dalla finestra senza sapere veramente che cosa c'è sotto se non un burrone ecco quindi io da questo punto di vista ho sempre non solo mantenuto un rapporto una considerazione un confronto politico con Conte ma addirittura insomma negativo ecco le ragioni invece sulla vicenda del Lazio penso che lui abbia proprio fatto un errore e racconta una storia che non sta molto in piedi perché la verità sul Lazio è molto semplice molto semplice nel Lazio c'è un gruppo dirigente a partire dal sottoscritto anche se io poi sai il gruppo dirigente del Lazio si fa per dire comunque certamente questa regione questa città sono una regione della città dove sono cresciuto dove ho svolto in grande parte ha avuto un ruolo politico importante sì un ruolo politico però insomma comunque proprio qui dove noi ci siamo spesi tantissimo per sostenere il suo governo anche prendendo un sacco di botte perché poi siamo stati anche molto osteggiati appunto criticati anche nella grande stampa e proprio qui non cerchi e dove noi abbiamo governato insieme a loro nella esperienza della regione proprio qui poni condizioni così ruvide perché che cosa è successo noi fin dall'inizio abbiamo dato segnali a Conte adesso non voglio entrare nel gossip della politica perché non però abbiamo dato segnali di tutti i tipi che la candidatura poteva essere benissimo non solo decisa insieme ma decisa sulla base di una rosa che avrebbe potuto lo stesso Conte avanzare sapendo perfettamente quale sono le dinamiche anche del gruppo dirigente del Lazio e di Roma quindi poteva bene e la verità è che mentre noi avevamo teso la mano in questo modo lui ha fatto una conferenza stampa diciamo sui cosiddetti contenuti che come sappiamo bene in politica sono quando non si vuole sono come quella parte del corpo che non posso indicare perché c'è una signora in questa in questa conversazione però insomma ecco io quando si brandiscono i contenuti diffido sempre come diffido i governi di programma c'è la politica la decisione politica che privilegia su tutto poi naturalmente se ci sono visioni di fondo diverse a questo assolutamente ma impostazioni non era questo il caso lei dice ma non è il termo un termo valorizzatore a Roma io credo che anche una parte delle persone che stanno intorno anche qui non faccio gossip al presidente Conte gli hanno spiegato bene che per i prossimi dieci anni quella è una scelta inevitabile quindi non è stato quello ma è stato soprattutto il tono o voi venite su questi contenuti oppure pace cioè un tono verso un partito democratico tendente a umiliarlo ecco allora a quel punto è evidente che è sfuggita di mano diciamo una un filo di ragionamento comune e poi a quel punto il segretario del partito perché usano a dire le cose come stanno il segretario del partito Letta ha indicato tra i vari candidati in campo possibili quello di D'Amato con il segretario regionale in una riunione che è stata fatta al Nazareno e lì si è deciso di andare su D'Amato dopodiché D'Amato per me è un ottimo candidato D'Amato è una persona per bene ha fatto un lavoro straordinario ma purtroppo e quindi io penso che in questa ultima fase dobbiamo fare di tutto per far capire come egli è l'unica possibilità per fermare la destra anche nel Lazio è l'unica possibilità e io penso che non c'è bisogno di fare l'appello al voto utile io penso che tanti elettori del Movimento 5 Stelle capiranno che cosa è utile per fermare la destra anche nel Lazio però D'Amato risente purtroppo di uno schema politico dove ci manca un pezzo fondamentale noi se avessimo fatto la battaglia insieme in 5 Stelle nel Lazio staremmo adesso a discutere di come formare la giunta e questa è la verità anche a quelli che ci hanno rotto diciamo molto le scatole sul fatto che noi eravamo su Baltenni che facevamo queste vanno ricordate queste cose altrimenti si perde ripeto il filo di un ragionamento sincero per il resto sono d'accordissimo con la ricostruzione che ha fatto Francesco quindi non aggiungo nulla rispetto al passato anche secondo boccia nel Lazio non c'è stata invece una chiusura da parte del PD rispetto alla scelta del candidato rispetto appunto a un tema insomma su cui Bettini dice che non ci sono alternative che è quello del termo valutariatore ma insomma qui diciamo l'argomento è abbastanza complesso e non è questa la sede in cui possiamo affrontare il tema dei rifiuti a Roma e nel Lazio però insomma ci sono diciamo autorevoli che sostengono che insomma ci possano essere altre alternative al bruciare i rifiuti però ecco non ne discutiamo qui ora secondo lei il PD è stato sufficientemente dialogante con i 5 Stelle e in questo caso ha sbagliato Conte ma qual è la sua ricostruzione della vicenda io non penso nel PD ci sia un altro più dialogante di me siccome ho provato io a fare questo sforzo anche da responsabile degli enti locali nei mesi scorsi le garantisco che è stato fatto tutto quello che si poteva fare e la candidatura di Alessio D'Amato che è una candidatura molto autorevole e forte non era l'unica candidatura possibile e lo stesso Alessio D'Amato ovviamente stiamo parlando di tre mesi fa di quattro mesi fa io da un antecedente all'inizio della campagna elettorale era con Daniele Leodori che è stato vicepresidente di Nicola Zingaretti per tanti anni erano tutti disponibili per trovare una soluzione unitaria e quella soluzione non è stata voluta perché il totem del termolavorizzatore è stato secondo me utilizzato strumentalmente dal Movimento 5 Stelle di Roma un incidente di frontiera io l'ho chiamato è così è così fuori luogo perché anche qui utilizzarlo anche per la caduta del governo precedente io penso che ad un certo punto stava cambiando pelle la scissione dovuta a Di Maio nel Movimento 5 Stelle ha accelerato il cambio diciamo di pelle che ci sarebbe stata comunque l'elezione politica a parte il Movimento e sono stati utilizzati alcuni totem che secondo me hanno accelerato la rottura sbagliata lo dico anche da parte del PD con il Movimento 5 Stelle non avrei mai rotto il 20 luglio come è noto all'estero sono tornato in fretta e furia lasciando mia moglie e due figlie dall'altra parte del mondo lo ho raccontato a molti lo racconto anche qui quando cade il governo Draghi perché non era prevista quella caduta così improvvisa io ero in Australia e ho lasciato praticamente quasi tutta la famiglia lì sono andato al primo aeroporto sono tornato atterrando non ho trovato più nella coalizione nel governo né un progetto politico che durava da anni ho fatto di tutto per provare a far cambiare idea ma c'era lo Stato maggiore devo dire del PD soprattutto di una parte del PD e la certezza diletta di ottenere una sorta di dividendo della caduta del governo che è stato sbagliato far cadere l'ho detto allora lo ribadisco oggi è stato un errore farlo cadere perché eravamo già in campagna elettorale nel senso che approvata la legge di bilancio avremmo votato a gennaio abbiamo solo votato a settembre è stato un disastro è stato un errore quello di Conte fa al cadere il governo è stato un errore quello di Letta non cercare le ragioni di un'alleanza che doveva continuare ad andare avanti perché da tre anni aveva dato risultati importanti aveva costruito un campo ed un errore dell'intero gruppo dirigente me compreso perché non siamo stati in grado di fermare questa slavina che in realtà poi ha portato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi Giorgia Meloni che non ha la maggioranza degli italiani hanno una maggioranza parlamentare grazie ad una minoranza degli italiani che ha votato in maniera compatta una destra che è unita solo per ragioni di potere il centro-sinistra e non ha avuto la forza di unirsi questo è il tema politico detto questo il PD oggi ha il dovere di indicare una rotta lo fa con un congresso dimostrando ancora una volta di essere un grande partito popolare ed un'associazione tra centinaia di migliaia di iscritti che non ha proprietari e la linea politica che verrà fuori dal congresso potrà consentirci o di costruire di nuovo quel campo che è il nostro campo naturale e che quando abbiamo guidato lo dico a Giuseppe Conte da qui quando l'abbiamo guidato insieme abbiamo vinto le amministrative io ieri ci sono rimasto un po' male quando ho letto dell'appello al disgiunto fatto da Giuseppe ma il disgiunto lo si fa agli elettori di destra non a noi cioè noi in questo momento dobbiamo far di tutto per consentire a Damato di essere presidente della giunta regionale dopo dieci anni tra l'altro brillanti zingaretti voglio ricordarlo quando zingaretti si è insediato la regione Lazio in sanità era non solo commissariata ma piena di debiti Nicola ha risanato la sanità l'ha cambiata l'ha migliorata il protagonista in questi ultimi cinque anni è stato proprio Alessio Damato e oggi c'è un confronto che sarà l'ultimo voto con Rocca e quindi io faccio appello a tutti gli elettori del Lazio di non interrompere questa trasformazione virtuosa che c'è stata nella regione Lazio io sono io sono testimone oculare di quello che il Lazio ha fatto per il resto d'Italia il 30% dei medici e degli infermieri volontari nei momenti più drammatici della pandemia sono venuti da Roma il 30% l'altro 70% dalle altre regioni del Mezzogiorno quando c'era il dramma a Bergamo a Brescia a Piacenza a Milano quando non c'erano rianimatori infettivologi abbiamo chiesto di tornare dalla pensione a nonni che avevano lasciato le corsie degli ospedali da anni sono entrati negli aerei militari settantenni donne e uomini che soprattutto partivano da qui dalla sanità pubblica del Lazio io non l'ho dimenticato perché ho pianto con loro su quegli aerei militari e ci sono andati perché c'è stata autorizzazione della regione Lazio perché la regione Lazio ha consentito anche a chi era in servizio non è che non c'era il virus nel Lazio c'era anche nel Lazio queste cose sono avvenute perché all'improvviso l'Italia ha scoperto che la sanità del Lazio diciamo che non aveva dieci anni fa questa credibilità era diventata la sanità più credibile stabile e secondo me anche migliore d'Italia ed era venuta giù come un gigante dei piedi d'argilla la blasonata sanità della Lombardia che è molto buona ma la parte privata è molto buona ma se hai bisogno di prevenzione territoriale non hai una carta di credito non ti curi e noi dobbiamo pensare in realtà a tutti lo dico perché anche qui torniamo alla sinistra e alla linea politica e il congresso serve a questo e serve a dire con chiarezza che parte si sta sarebbero ancora tantissime le domande anche diciamo all'ultimo riferimento che ha fatto Boccia sul tema della sanità e anche rispetto alla riforma dell'autonomia che il governo si appresta a varare insomma dobbiamo diciamo questi dialoghi a sinistra credo che abbiano ancora bisogno di altre puntate però purtroppo il nostro purtroppo il nostro tempo a disposizione si è esaurito e quindi io devo ringraziare Goffredo Bettini e Francesco Boccia per la bella chiacchierata interessante noi ringraziamo lei per le domande e la conduzione di questa nostra conversazione Grazie a tutti